La cittadinanza è ripensata sulla stampa ed è stata ripresa anche da organi fuori. La cittadinanza è quello che succederà. Ora per 5 anni, fino a 2000... ...di inizio a superare la trotta, diciamo 60 giorni per la seconda che cambieranno della cittadinanza, venderemo queste piante fino all'ultimo. Grazie. Grazie. Grazie.